Musica Molesta una studentessa 15enne in stazione a Montebelluna e altri giovanissimi 24enne bengalese ubriaco, arrestato dai carabinieri Brutta esperienza non lo auguro a nessuno, ha detto una delle vittime Morto l'imprenditore Massimo Donadon, famoso nel mondo per le esche contro i topi Il ricordo del nipote Riccardo, fondatore di Hitchfarm, geniale, visionario, un ragazzino nel corpo di un 91enne Il semirimorchio di un auto articolato si è incendiato in corsa nel pomeriggio Lungo l'A4 allo svincolo di Cessalto e 90, nessun ferito ma lunghe code Ha fatto il giro d'Italia la storia del materasso recuperato al centro di raccolta di Montebelluna In cui la proprietaria aveva nascosto 50.000 euro In scena anche la protezione civile per recuperarlo Presentati i dati di Ecosistema Urbano 2024 Il rapporto di lega ambiente sulle performance ambientali di 106 capoluoghi di provincia Treviso la migliore e sesta a livello nazionale A Cassugana primo incontro dell'osservatorio sul trasporto pubblico e la viabilità Confronto sui cantieri in corso, potenziamento di bus e navette verso il Natale nei weekend Due lupi sono stati investiti a Lorenzago e la polizia provinciale ha recuperato le carcasse Le ha consegnate all'istituto zoo profilattico, probabilmente stavano seguendo un branco di cervi Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta edizione di Treviso dei nostri telegiornali Prima di incominciare con i servizi, come sempre oggi è lunedì Vi sottoponiamo il nostro sondaggio di questa giornata Il cui esito poi vedremo nel corso di Ring L'ipotesi del nucleare a Porto Marghera lanciata una settimana fa da Renato Brunetta Ha riacceso il dibattito sull'utilizzo, i rischi e i costi di questa forma di energia Sì degli industriali, contrari gli ambientalisti, dal governo l'apertura dei ministri Pichetto Frattin e Urso E allora, lo vedete anche in sovraimpressione, vi chiediamo Nucleare a Porto Marghera per rispondere di sì, 0422 1626 691 Per rispondere di no, 0422 1626 690 Continuate a chiamarci e a esprimere la vostra opinione Il risultato come sempre poi nel corso di Ring che inizia come sempre alle 21 Allora la cronaca adesso ha molestato ragazzi e ragazze in stazione a Montebelluna In particolare una studentessa di appena 15 anni Per questo un 24enne bengalese ubriaco è stato tratto in arresto dai carabinieri O avuto come un blackout, si è poi giustificato davanti al giudice Brutta esperienza, non l'auguro a nessuno, ha detto una delle vittime Io ho visto i carabinieri mettere questo ragazzo dentro la macchina Che era proprio arrestato, di mettere dentro la macchina, abbiamo visto la scena E' stato fermato dai militari dell'arma dopo una breve fuga Il 24enne bengalese domiciliato a Treviso Che si è reso protagonista di un pomeriggio di follia e moleste Tra la stazione delle Corriere e quella dei treni a Montebelluna Sono circa le 13 di venerdì L'uomo, raccontano alcuni testimoni, si aggira nei pressi di Piazzale 4 Novembre Visibilmente alterato, il barista del vicino locale se lo ricorda così E poi è passato qua anche ad acquistare le sigarette mi pare Era un po' già un po' frassonato Quindi era passato anche di qua, aveva acquistato delle sigarette, era un po' alterato Sì, era già un po' strano, diciamo, un po' strani Non ha bevuto alcol? No, da noi non ha bevuto alcol, ma era arrivato già così Il peggio poco dopo quando il bengalese comincia ad avvicinare studentesse e studenti Che stanno rientrando da scuola Era un po' ubriaco questo ragazzo qua E l'abbiamo trovato là, dalla parte lì dietro al binario Sono andato da lui perché stavo urlando L'ho salutato, era bello ubriaco, era tanto ubriaco Sono arrivati gli altri ragazzi lì con noi Ha iniziato un po' a toccarli Ha toccato un ragazzo, gli ha fatto Tu sei mia moglie, tu sei mia moglie Le attenzioni peggiori però le ha per una ragazzina quindicenne Che viene palpeggiata nelle parti intime I carabinieri arrivano sul posto quasi nell'immediatezza Il 24enne è talmente alterato che nonostante la presenza dei militari Continua ad avvicinarsi pericolosamente alla minorenne Con l'intenzione di importunarla ancora La breve fuga, poi l'arresto con il trasferimento nel carcere di Santabona Nelle scorse ore dopo l'interrogatorio di garanzia È stato sottoposto a obbligo di firma giornaliero Quindi scarcerato Davanti al GIP ha riferito di aver avuto come un blackout Dopo aver bevuto del whisky E di non ricordarsi nulla Peccato che i presenti si ricordino tutto È stata una brutta cosa Non lo auguro a nessuno Ha confidato la stessa quindicenne E tra le coetanee c'è apprensione Di giorno è un luogo abbastanza tranquillo Però la sera se vieni tardi Trovi un po' di persone Che non ti puoi fidare Perché magari ci sono dei uomini grandi Che magari ti possono anche rincorrere Poi dipende anche di dove ti trovi Poi anche dalla gente che ti trovi davanti Persone come queste dovrebbero scontare la pena in un carcere Nel loro paese d'origine Ha tuonato in seguito a questo episodio Il sindaco di Montebelluna commentando l'arresto del 24enne per le vittime Pronto il supporto psicologico Di delinquenti ne abbiamo già tanti Se magari questi delinquenti stranieri potessero poi anche scontare delle pene Nelle loro patrie galere forse sarebbe anche opportuno Non usa particolari diplomazie ad Alberto Bordin Di fronte alle moleste consumate in stazione a Montebelluna Con protagonista un 24enne bengalese domiciliato a Treviso Che nelle scorse ore è stato sottoposto a obbligo di firma Dopo due giorni in carcere a Santa Bona Intanto sarebbe importante che scontassero una pena Se poi le facessimo scontare nei loro paesi d'origine Mi scusi il termine, sarebbe ancora meglio Vicenda grave in un quadrante da sempre attenzionato Quello attorno a piazza 4 Novembre Le stazioni sono delle zone sensibili In tutte le città in cui esiste una stazione L'unica cosa che possiamo fare E la facciamo e la faremo e l'abbiamo fatta È di presidiare la stazione il più possibile Sia per quanto riguarda l'utilizzo dei funzionari della polizia locale Quindi dei vigili Che ovviamente le telecamere di videosorveglianza Che un continuo scambio di informazioni e operazioni congiunte Con l'arma dei carabinieri Un conto, la sicurezza, un altro il sostegno Ai giovani molestati In particolare il supporto psicologico Ovviamente come essere umano Ma come anche rappresentante Primo cittadino di Montebelluna Mi sembra ovvio che il comune Deba fare la sua parte Nel momento in cui Venissimo contattati dalla ragazza O dai familiari Per qualsiasi tipo di supporto Voltiamo pagina È stato catturato anche l'ultimo Dei presunti killer di Margherita Ceschina La pensionata uccisa a Conegliano Su commissione stando alla procura Dell'ex marito che non voleva continuare A pagarle il consistente assegno di mantenimento Sono ora tutti nelle mani della giustizia I presunti esecutori materiali dell'omicidio Nel giugno del 2023 Di Margherita Ceschin La 72enne uccisa nella sua abitazione di Conegliano Su commissione Secondo la procura di Treviso Dell'ex marito Enzo Lorenzon Imprenditore vitivinicolo di Ponte di Piave Anche l'ultimo dei presunti responsabili del delitto È stato infatti fermato Gli agenti dell'Interpol Sono riusciti a bloccare Joel Luciano Lorenzo A Santo Domingo Dove il 25enne si era rifugiato Per scampare all'arresto Il fratello Sergio Antonio Luciano Lorenzo È già in carcere da tempo Dal giorno del delitto Joel Che in quella circostanza Avrebbe fatto da palo alla banda Si era allontanato dall'Italia Risultando irreperibile Le indagini dei carabinieri Della compagnia di Conegliano E del nucleo investigativo Del comando provinciale In collaborazione col servizio Di cooperazione internazionale di polizia E con l'esperto per la sicurezza Operativo a Santo Domingo Hanno permesso di rintracciare Venerdì scorso Il giovane Nel paese del centro America Si stava nascondendo In casa di alcuni parenti Al 25enne È stata notificata L'ordinanza di custodia cautelare In carcere Emessa dal GIP di Treviso Un anno fa È attualmente rinchiuso In cella In attesa dell'udienza Per l'estradizione Che si svolgerà Nei prossimi giorni Altro caso Quello della morte A Vidor Del 25enne Di Marcon Alex Marangon La settimana prossima I carabinieri Del RIS di Parma Eseguiranno Un'aperizia Sulle presunte Tracce di sangue Trovate Nell'auto del giovane Il 4 novembre Il 4 novembre Sarà eseguito Un accertamento Tecnico irripetibile Sulle presunte Chiazze di sangue Trovate all'interno Dell'auto Di Alex Marangon La richiesta Del pubblico ministero Per accertare Se si tratti davvero Di tracce ematiche E nel caso A chi appartengano Segue la segnalazione Che era arrivata Dai genitori Del giovane Di Marcon Morto dopo aver partecipato A un rito di medicina E musica sciamanica Nella abbazia Sconsacrata Di Santa Bona A Vidor Già ad agosto I familiari Avevano infatti notato Una prima macchia Vicino al freno a mano Gli ulteriori controlli Effettuati Dopo che la procura Di Treviso Aveva disposto Il sequestro dell'auto Hanno rivelato La presenza Di altre due macchie Sospette Sul sedile anteriore Lato passeggero Che ora Saranno analizzate Dai carabinieri Del RIS di Parma Il 2 luglio Dopo alcuni giorni Di ricerche Il corpo di Alex Marangon Era stato trovato Sul greto del Piave Con diverse ferite Il giovane Aveva 26 anni La sua È una morte Che rimane ancora Avvolta nel mistero La procura Ha aperto Un fascicolo Per omicidio volontario Senza però Alcun indagato E saranno celebrati Con tutta probabilità Venerdì mattina In Duomo a Treviso I funerali Di Massimo Donadon L'imprenditore Che ha fatto fortuna Nel settore Della derattizzazione Un creativo Della vita Come ricorda Il nipote Riccardo Lui era giovane dentro E fino all'ultimo Innamorato Del vita Riccardo Donadon Racconta così Lo zio Massimo Scomparso domenica All'età di 91 anni Uno dei volti Della Treviso Inventiva e operativa Quella che è già passata La storia Come il dinamico Nord-Est Massimo Donadon Era per tutti L'imprenditore Che ha saputo fare fortuna Sui topi Con la sua Mayer Brown Deutschland Ha trovato La nicchia di mercato Che nessuno Aveva ancora esplorato L'idea era partita Già con la Treviso Del dopoguerra Dove per quasi ogni casa C'era una stalla E mosche relative Un modo per liberarsene Senza il DDT Che rovinava il latte E con maggiore efficacia Delle strisce moschicida Era il suo obiettivo Poi la deratizzazione E la grande sfida Del 97 Di liberare dai topi Una metropoli Come New York E lì entra in gioco La creatività trevisiana Prendendo letteralmente Per la gola I ratti Con esche Al gusto di fast food Un successo Che gli ha permesso Di arrivare A 17 mila punti vendita Con 30 laboratori Nel mondo Ma la testa Sempre lì Tra Treviso E Carbonera Con quella casa Dalla facciata Che ricorda Un palazzo Dei 300 In miniatura E' lì Che il giovane Riccardo Si è ispirato Per imprese Come i Tri E ora i Cfar Allo zio Io devo molto Quando ero ragazzino Mi ha ispirato E dato fiducia Consigliando ai miei genitori Di lasciarmi andare Di fare La strada Che volevo fare Aveva questa straordinaria capacità Di leggere la società In diverse sfumature Con saper stare Nelle diverse situazioni Incredibile Con una capacità Di disacrare la scena Con quella genuinità E furbizia Che era Tipica di un territorio Di una generazione pazzesca Che ha fatto Delle cose straordinarie Ed è quella generazione Che oggi saluta Massimo Donadon Il cordoglio di Luciano Benetton Di Massimo Colomban Di Roberto Castagnar Solo per citare Alcuni dei suoi amici stretti Raccolto nelle parole Del presidente Della Camera di Commercio Mario Pozza Era un punto di riferimento E io ho sempre avuto Un ottimo rapporto E sono sempre stato spronato Dal suo modo Di pensare positivo E quindi Grazie a Massimo Per quello che hai fatto Ma il messaggio che lascia È nelle parole di un Riccardo Donadon Visibilmente emozionato Ci ha insegnato Che gli anni Sono una convenzione E che lo spirito Può essere ancora più forte Andiamo avanti Con la cronaca Alle 15.40 Circa di oggi I vigili del fuoco Sono dovuti intervenire In autostrada In A4 Tra gli svincoli Dice Salto E 90 di Piave In direzione Venezia Per l'incendio Del semirimorchio Di un auto articolato Lo vedete nelle immagini Nessuna persona È rimasta Ferita Ma l'autista Che è comunque Riuscito a mettersi In salvo E ad accostare Proprio durante la marcia Si era accorto Delle fiamme Ha staccato la motrice I vigili del fuoco Arrivati da Motta Di Livenza E Sandonà Con due autopompe E un autobotte Hanno spento Le fiamme Del semirimorchio Carico Di materiale ferroso Cause delle fiamme Che sono al vaglio Delle squadre intervenute Durante le operazioni Di spegnimento Del rogo Naturalmente Il traffico È rimasto bloccato Con le comprensibili code Che si sono poi formate Ha fatto il giro d'Italia Davvero La storia Del materasso Recuperato Al centro di raccolta Dei rifiuti Di Montebelluna Nel quale Erano stati nascosti Dalla proprietaria Preziosi E contanti Per 50 mila euro La nostra comunità Si è mobilitata Ha raccontato il sindaco Tanto che in scena È andata anche La protezione civile Con Contarina E Carabinieri Sono oggetti Di una vita di lavoro Della mamma Della signora Aver perso Un valore così alto Sarebbe stato Un disastro familiare Per fortuna Tutto è andato bene E siamo stati Tutti tempestivi Diciamo che Nel giro di un'ora e mezza Il problema si è risolto È scesa in campo Persino la protezione civile Per recuperare Il materasso Di una signora Di Montebelluna Nel quale Erano stati nascosti I risparmi di una vita 50 mila euro Tra contanti Buoni e gioielli Quel materasso Usurato dal tempo E abbandonato Nel garage di casa Era stato portato Poco prima Al centro di raccolta Dalla colf Ignara del tesoretto L'allarme Lanciato dalla figlia Dell'anziano Una volta capita La situazione Ha mobilitato Mezza città Attraverso L'arma dei carabinieri L'ufficio ecologia E la protezione civile Siamo intervenuti Per far riaprire il card Durante la sera E recuperare Questo materasso Quindi tutto È stato restituito Alla proprietaria E quello che so È che invieranno Una comunicazione Di ringraziamento Al sindaco Ma più che al sindaco Direi Tutti i funzionari Del comune Che sono intervenuti Insomma Un sabato sera Di apertura straordinaria Per il card Con le ricerche Che hanno avuto Quasi subito Esito positivo Perché era proprio All'inizio Per fortuna Del cassone Perché se no Ci voleva Addirittura Una piccola ruspa E svuotare il cassone Il giorno dopo Un po' alla volta Una storia A letto fine Che ha fatto il giro D'Italia Ma potenzialmente Non così straordinaria O unica Non è così raro Non credo sia così raro C'è sfiducia A volte negli istituti E quindi Specialmente negli anziani Si ricercano Le soluzioni Di una volta Credo che Quando Viene a mancare Un genitore Soprattutto Di una certa età Che hanno una certa mentalità Dei soldi Che stanno meglio A casa Nascosti Che in banca Di controllare bene Ci sono ancora persone Che tengono tanti soldi Sotto il materiale Certamente sì Certamente sì Magari soldi Che non vengono dichiarati Poi Montebellone È un po' particolare Magari Diciamo che Sta aumentando Sta aumentando Questa situazione Perché forse Conviene tenerli a casa Che sono più a sicuro Che le banche Queste le voci Che ha raccolto Il nostro Cristian Arboit Adesso parliamo Di ambiente Perché oggi Sono stati presentati I dati Di ecosistema urbano 2024 Il rapporto Proprio di Lega Ambiente In collaborazione Con Ambiente Italia Sole 24 ore Sulle performance Ambientali Di 106 Capoluoghi Di provincia Le città venete Si posizionano Tra alti e bassi In realtà Ma è treviso La migliore Sesta Anche a livello nazionale Un rapporto Tra luci e ombre Per le città venete Quello di Lega Ambiente Sulle performance Ambientali È treviso La migliore in Veneto Sesta a livello nazionale Per vivibilità ambientale Urbana A confermare Un trend In miglioramento A seguirebbe L'uno Al diciannovesimo Posto Venezia Al trentanovesimo Padova Al quarantaduesimo Vicenza Cinquantunesimo Più in fondo Rovigo Al settantaseiesimo Posto Prima di Verona Ultima Tra i comuni Veneti Al settantottesimo Posto Il rapporto Ecosistema urbano 2024 Ha rivisto E aggiornato Il peso Di alcuni indicatori Aggiungendone Uno nuovo Sempre distribuiti In sei aree tematiche Aria Acque Rifiuti Mobilità Ambiente urbano Energia Città veneti Tra alti e bassi A seconda Degli indicatori Presi in considerazione Se guardiamo Alle performance Di Treviso Prima tra le città veneti Nella classifica nazionale Vediamo che occupa La diciottesima posizione Per i rifiuti prodotti Seconda Per raccolta differenziata Salita nel 2023 All'87,1% E ancora nona Per le piste ciclabili Con 27 metri Ogni 100 abitanti Il sindaco Mario Conte Intervenuto Alla presentazione Dei dati del rapporto Ha spiegato Come si stia lavorando Condividendo Con altri 20 comuni Politiche ambientali Urbanistiche Mobilità E infrastrutture Tutto ciò Che può Concretamente Migliorare Le condizioni Ambientali Del nostro territorio Quindi non parlo più Della mia città Ecco noi lo stiamo Mettendo in rete Lo sforzo Che stiamo facendo Ha spiegato ancora Conte Di non pensare A politiche ambientali Come ad una restrizione Ad una violazione Ma ad un'opportunità Che viene data Alle future generazioni Investiamo sulla cultura ambientale Invece che sulle sanzioni Probabilmente le sanzioni Che saremo costretti a pagare Sono quattro volte superiori Agli investimenti Sui temi ambientali E anche qui Mi confrontavo prima Col presidente Se venissero detassati Gli interventi ambientali Lascerebbero un margine Del circa Il 15% in più Di risorse Anche vincolate Sempre su questioni ambientali Da investire Nel nostro territorio Di unione Oggi pomeriggio A Cassugana Per la viabilità Nel comune Di Treviso Tra i provvedimenti In discussioni Le variazioni Dei percorsi Per i bus La programmazione Natalizia Ma anche La ormai famosa Terza corsia Del put Noi vorremmo avere Un tavolo di coordinamento Che parte Dal trasporto pubblico Ma che poi Possa riuscire Sostanzialmente Ad avere una visione Su tutta la mobilità Complessiva Della città Prima riunione A Cassugana Del tavolo tecnico Per migliorare Il traffico E le percorrenze Ma anche per progettare La mobilità del futuro Dentro e fuori Il centro storico Di Treviso Inevitabile Il passaggio sul tema Che ha già suscitato Un mare di polemiche Terza corsia Sul put E taglio alberi Per far spazio ai bus Non abbiamo ancora Lo studio di fattibilità Quindi è assolutamente Inutile parlare oggi Di qualcosa Che potremmo discutere E quando sarà sul tavolo Dopo avremo visto Lo studio Non è da escludersi Che qualche sacrificio Possa anche essere necessario Ma naturalmente Prima di capire Quanto Dove E come Io sono abituato A ragionare Con le carte alla mano Per mobilità di marca L'obiettivo Al di là Della terza corsia Deve essere quello Già raggiunto In città come Milano Creare un'area verde Dove alla fine Si arriva in centro Con i mezzi Si arriva sul put Con i mezzi E quindi una scelta radicale Su come muoversi A Treviso Un esempio potrebbero essere Le festività natalizie Dove sarà potenziato Il servizio Una navetta Dai parcheggi scambiatori Dato che i trevigiani Che vogliono venire in centro Treviso Sono molti Abbiamo proposto Con i nostri mezzi Sabato e domenica Di poter Arrivare In centro Credo In piazza Duomo Poi ci sono I rallentamenti Causati dai cantieri In città Primo tra tutti Quello della stazione Disagi che non finiranno A tempi brevi Io penso Che ci vorrà ancora Un annetto Devo dire che Anche per quanto riguarda La situazione dei cantieri Chiaramente le condizioni Meteorologiche Non aiutano Altro aspetto Sottolineato da Casugana È lo sviluppo Degli autobus A chiamata Stiamo assolutamente Lavorando Per far partire A gennaio In senso più esteso Nella città di Treviso Il servizio a chiamata Il servizio a chiamata Sarà fruibile Negli orari di morbida Entriamo nella seconda fase Di sperimentazione Ad esempio Del trasporto a chiamata E quindi Da qui A qualche mese Portare un nuovo modello Di trasporto a chiamata Potrebbe essere Già quella Una sperimentazione Che funzioni Molto bene E che dia delle risposte Su tutto questo Però peso un dato Per certi versi Allarmante Che Mom Rispetto ai passeggeri Dello scorso anno Ha una lieve flessione Quindi abbiamo Una capacità Residua di carico Nei mezzi Negli orari di punte Ci fermiamo adesso Per qualche istante Di pubblicità Rimanete con noi Ben ritrovati Con l'edizione di Treviso Dei nostri telegiornali Andiamo sulle colline Del Prosecco Adesso Perché sono stati Inaugurati 28 Infopoint Per rendere Più fruibili Paesaggi E percorsi Di questo scorcio Della nostra provincia Patrimonio Dell'umanità Promuovere il paesaggio Facendolo conoscere E rendendolo fruibile Provincia Galla Altamarca E 17 Comuni dell'area Unesco Hanno inaugurato 28 punti Di osservazione Che arricchiscono Itinerari E percorsi Delle colline Del Prosecco Tra Conegliano E Valdobbiadene Infopoint Con tutte le informazioni Per conoscere Storia, natura E cultura Del territorio Questo progetto Di sistema Si chiama I luoghi del cammino E con 28 aree attrezzate Self-Infopoint Consente Di rendere Accessibile E va a qualificare Il cammino E i percorsi Itinerari Dell'area Delle colline Del Prosecco Ponegliano Valdobbiadene Oltre 400 km Siamo riusciti A declinare Calare a terra Come si suol dire Un progetto Da 400 mila euro Che dà un messaggio Uniforme E valorizzare Le colline Del Prosecco E il nostro Patrimonio Dell'umanità Oltre alle opere Materiali E' stato realizzato Anche un sito E' stata realizzata Anche la geolocalizzazione E' possibile orientarsi Con le Google Map E anche Dai leggii Che ci sono In queste aree Sosta Col proprio smartphone Fare Un tour Virtuale Di tutto Il paesaggio Di tutta l'area Unesco Delle colline Del Prosecco Adesso andiamo In diretta Da Silea Col nostro Lucio Zanato Perché il Comune Ha riunito La quarantina Di famiglie Che hanno avuto Purtroppo Dei danni Con gli allagamenti Dello scorso 23 settembre Dovuti Alle forti piogge All'inalzamento Dei corsi d'acqua Lucio A te Buonasera Buonasera Rina Buonasera A telespettatori Di Antena 3 Mi trovo all'esterno Del municipio Qui a Silea E' in corso La riunione Siamo sulla cinquantina Di persone Di famiglie Perché poi Si sono aggiunte Delle altre Che hanno avuto Dei problemi Sempre nel comune Di Silea Ma non propriamente Di allagamenti diretti Chiamiamoli così Comunque In ogni caso Le notizie Intanto Il fatto che La riunione Si è svolta In maniera civile Fino a questo momento Nessuna Presa di posizione Diciamo così Nessuna Cosa sopra le righe La seconda Invece Che c'è stata Una puntuale D'esamina Da parte Dell'assessore competente Che ha raccontato Cosa di fatto È successo Ed è successo Che delle pompe Non hanno funzionato Ma c'è anche Un problema Proprio di scolo Del fiume Melma All'altezza Della Chiari e Forti E quindi In conseguenza L'interesse Per riuscire Sapete che La Chiari e Forti In questo momento È in una situazione Abbastanza complicata Per riuscire All'affidatario In questo momento Del manufatto Per riuscire A eliminare Quella che è Una chiusa E che sarebbe La responsabile Dell'inalzamento Oltremodo Del fiume Melma Quando comincia A caricare Perché ricordiamo Il fiume Melma Raccoglie l'acqua Da carbonera Per intenderci Da vascona Addirittura In giù E quindi Questo è Il secondo dato Cioè l'interesse Per riuscire A fare dei lavori Sia come genio civile Sia come consorzio piave Sia come piave servizi Che è la responsabile Delle pompe Poi c'è stata La distribuzione Dei moduli Per ottenere Dalla regione Fare tutto Quell'iter Per l'ottenimento Chiamiamolo così De una quota Di risarcimento Da parte Di queste famiglie Colpite Da questa inondazione Però quello Che mi interessava E che secondo me Va sottolineato Anche per tutti Gli altri comuni Che mediamente Sono colpiti Da problemi Legati al cambiamento Climatico Quindi Mi viene in mente Aree Colpite anche Da frane Oppure zone Che subiscono Delle altre Inondazioni Mi viene in mente A Casafranco E Chiamiamolo così Il ragionamento Dell'andare oltre Quello che può essere Diciamo così Il momento di rabbia Cioè ragionare su A come riuscire a farsi dare Diciamo così Dei esercimenti B naturalmente Come evitare che questo Capiti E devo dire Qui a Silea L'idea di poter Parlare Di fronte Diciamo così Di chiarirsi Tra sindaco Che rappresenta la comunità E comunità stessa È il primo passo Perché poi Naturalmente Tutto questo Il sindaco Lo riporta Alle autorità Successivi Se non è La regione Il genio civile Oppure anche Il consorzio di bonifica Quindi un esempio Secondo me Da seguire Anche per le altre Amministrazioni In cui Anziché dare spazio Alla rabbia Si dà spazio A un ragionamento Tutti insieme Per ottenere Un buon risultato Il resto Lo raccontiamo Con un servizio Domani Nella prossima edizione Del telegiornale A Tela Linea Grazie Grazie Lucio Zanato Partecipazione Insomma ci vuole Questo ci ha detto Il nostro Lucio Noi andiamo allo sport Adesso al calcio Il Treviso Non sfigura in casa Contro la capolista Campodarsego Conquistando un importante pareggio E restando agganciato Alla testa Della classifica Un pareggio importante Quello conquistato Contro la capolista Che consente Al Treviso Di non perdere Terreno dal Campodarsego Non più solo In testa La classifica Ma raggiunto Dal Dolomiti Bellunesi Domenica prossima Sarà scontro diretto Tra le due squadre Che guidano il girone C della Serie D Con il Treviso Invece A quattro punti Di distanza Pronto a far sentire Il fiato sul collo Alle due dirette avversarie Nell'ultima gara Altenne Davanti al pubblico Delle grandi occasioni 2.500 i presenti I bianco celesti Tengono testa I padovani Costruendo tante buone Occasioni Che però Non riescono a concretizzare Nel primo tempo I padroni di casa Vanno vicini al vantaggio Prima al ventesimo Poi al ventottesimo Si va negli spogliatoi Sullo 0-0 Nella ripresa Al quindicesimo È il Campodarsego A sfiorare il gol Pochi minuti più tardi Sono i tifosi del Treviso A sperare nella rete Ma Fabiano interviene Prontamente Su un tiro di Artioli In finale Sì al Campodarsego Prima Con Pasquato Poi il Treviso Con Valenti Tentano di sbloccare Il risultato La sfida invece Si chiude a reti Inviolate E domenica prossima Gli uomini di Mister Cacciatore Sfideranno in trasferta Il Ciserano Bergamo Alla caccia Di una vittoria Che potrebbe dire Avvicinarsi ulteriormente Alla vetta E soprattutto Tenere a distanza Il Caravaggio Lontano Un solo punto E ora andiamo Alle notizie Dal bellunese E allora dopo un weekend Purtroppo ricco di incidenti In montagna Anche oggi La centrale del Suem È stata attivata A farlo un alpinista Il cui compagno Era volato Mentre stavano Calandosi in corda doppia Dalla piramide Della cima grande Di Lavaredo Il 37enne di Trieste Era caduto Per diversi metri Per il cedimento Di un chiodo E si era fermato Sbattendo sulla parete L'amico lo ha raggiunto Attrezzando un ancoraggio Su cui assicurare Entrambi L'elicottero Del Suem Di Pieve di Cadore Con un verricello Di una trentina di metri Ha fatto scendere Il tecnico Recuperando l'infortunato L'eleambulanza Ha poi trasportato Il ferito All'ospedale Di Belluno Sei anni fa La tempesta Vaia Che ha cambiato Per sempre La montagna Veneta Vi ricordo Tra l'altro Che domenica sera Dalle 21 Riproporremo Il documentario Di Antenna 3 Che ripercorre Quei drammatici giorni Vaia Tra il 28 E il 30 Ottobre Del 2018 Sulle montagne Tra cui le Dolomiti Le prealpi venete Si scatenò Una violenza Che abbatte Circa 15 milioni Di alberi Modificando Per sempre Il paesaggio Una tempesta Caratterizzata Da raffiche di vento Che raggiunsero I 200 chilometri Orari E rase al suolo 41 mila Etteri Di boschi Pari A 8,6 Milioni Di metri cubi Di legno Rendendo necessari Oltre 2500 Cantieri Per far sì Che il territorio Si riprendesse Il presidente Della regione Veneto Luca Zaia Nel ricordarla Ha detto Come siano passati Sei anni Da quando La tempesta La baia Si abbatte Sui nostri Monti E boschi E oggi Possiamo dire Con orgoglio Che le Dolomiti Sono tornate A risplendere Lo testimonia La riapertura Recente Dei serrai Di Sottoguda Embleme Della devastazione Che colpì Le nostre montagne Serrai Che sono Nel territorio Di Roccapietro Di cui allora Era sindaco Andrea De Bernardin Sono stati Momenti Bruttissimi Perché La mancanza Di collegamenti È stata Incredibile In un attimo Si è perso Tutto quello Che eravamo Abituati a fare Quindi cellulari Telefoni Internet Computer Non andava più niente Quindi Non sapere Cosa succedeva Nel villaggio vicino Nel mio comune È stata la grande tragedia I serrai di Sottoguda Sono stati L'emblema Rimangono L'emblema Di quello Che è successo A Vaia Roccapietore Ma Ricordo Che 24 Dei 30 Torrenti Che ha Il comune Sono esondati Tutti assieme Nel momento In cui è arrivato Il vento Sono andati fuori Tutti Quasi tutti I torrenti Creando Davvero Dei disastri Ovunque Vaia Per me è stata Un'esperienza Assolutamente Memorabile Da tutti i punti di vista Ricorderò Per tutta la vita Ricordo Per esempio Quel momento In cui Molto difficile Ho preso La decisione Come coordinatore Dell'unità Di crisi Regionale Di far chiudere Tutto a Belluno Dando questa indicazione Perfetto di Belluno E poi a cascata Tutti i vari soggetti Coinvolti Ma Vaia È stata anche La dimostrazione Dell'efficienza Del Veneto Che ormai è diventato Un esempio nazionale Di ricostruzione Dopo l'alluvione Vaia Ricordata anche Dal presidente Della Camera Dei deputati Lorenzo Fontana Che ha detto Come quei giorni Rimangono Nei ricordi Del Triveneto E di tutto il paese Per la devastazione Che causò Ma anche Per il grande sforzo Messo in campo Per la ricostruzione Rivolgendo un pensiero Di cordoglio Ai familiari Delle vittime Di altre aree Del paese Colpite in quei giorni Tra ottobre E novembre 2018 Da una serie Di terribili perturbazioni Tempi duri Generano uomini forti È invece sintetizzato Il presidente Della provincia Da Vaia Cosa ci resta Ci resta sicuramente Che tempi duri Generano uomini forti E quindi Siamo riusciti A trasformare Quella che era Una tragedia In un'opportunità In questi anni Tanto è stato fatto Grazie ai soldi Che sono stati Stanziati dal governo Che la regione Ha coordinato Attraverso i soggetti Attuatori E che hanno permesso Di dare nuova sicurezza Al nostro territorio Bellunese Questo è quello Che ci resta di Vaia C'è ancora da fare Sicuramente sì C'è l'impegno Da parte di tutti Con l'auspicio Che attenzione E prevenzione Dovranno essere Comunque Dei punti di riferimento Su cui tutti Cercheremo di percorrere Gli anni futuri E allora Ricordatevi Ve lo ribadisco Il documentario Dedicato a Vaia Che manderemo In onda Domenica sera Dalle 21 Torniamo adesso Alla cronaca Di queste ore Con due lupi Che sono stati investiti A Lorenzago E la polizia provinciale Avvisata Dagli associati Della locale Riserva di caccia Ha recuperato Le carcasse Le ha consegnate All'istituto Zoo profilattico Per i rilievi di ritto L'incidente Seppegondo Le prime ricostruzioni È avvenuto Attorno alle due di notte A poche centinaia di metri Dall'ingresso del paese I due lupi Un maschio adulto Di quasi 40 chili E un cucciolo Di un anno Di 25 chili Sarebbero stati Imbattuta di caccia Con ogni probabilità Stavano seguendo Un branco di cervi Dato che proprio In quel punto Passa una pista Abituale Degli ungulati E sbuccando Sulla strada Sarebbero stati investiti L'automobilista In realtà Non si è fermato E le due carcasse Sono state ritrovate La mattina dopo Cambiamo tema Parliamo di uno strumento Di cui non si vorrebbe Mai avere bisogno Ma che purtroppo Può diventare prezioso Stiamo parlando Del comitato etico Per la pratica clinica Insediato oggi Dall'Ulss 1 Dolomiti Il rinnovato Comitato etico Per la pratica clinica Un istituto Il cui ruolo È esclusivamente consultivo Ma che visto il livello Dei 16 componenti Di cui 12 confermati Dal triennio precedente Presidente in primis Ha un importante ruolo Di indirizzo È un organismo Molto importante All'interno Dell'azienda sanitaria Che serve per Appunto dare dei pareri In materia di Etica Su tematiche di carattere Sanitario e sociosanitario In particolare Tematiche che vengono Richieste Da singoli pazienti Da loro familiari Da operatori Quindi dipendenti Dell'azienda Da associazioni Che si trovano Di fronte A problematiche Appunto Che possono rivestire Una caratterizzazione Tale da richiedere Il parere Del comitato Il comitato etico Nei tre anni precedenti Si è riunito In una trentina Di occasioni Fornendo sette volte Il proprio parere Come nel caso Drammatico Della feltrina Samantha Dincà L'acquistore Ve raccontamo A lungo Nel desiderio Dei genitori Di porre fine Al suo stato vegetale In situazioni come queste O anche meno gravi Potersi rivolgere A chi In ambito bioetico Possa dare Un'opinione ragionata Frutto di ampie Approfondite Conoscenze specifiche Può essere Di grandissimo aiuto L'importante È però sapere Che questo strumento Esiste Il comitato etico Rende pareri Su storie cliniche Promuove La formazione Del personale Dell'azienda sanitaria E la conoscenza Delle tematiche Di bioetica Presso La cittadinanza Quanto è difficile Farne parte? Beh Bisogna avere Una certa formazione In materia E mantenersi Aggiornati Un'altra pagina Quella economica Perché si è aperta Sabato Proseguirà Fino al 3 novembre In fiera a Longarone La 46esima edizione Di Arredamont Lo sapete E quest'anno C'è una novità Che riguarda Confartigianato Imprese Belluno Siamo soddisfatti E felici Di partecipare Ad Arredamont Con un villaggio Interamente Confartigianato Con nove espositori Quindi nove aziende nostre Del Veneto Presenti Del sistema casa Naturalmente Uno stand Di 500 metri quadri Per la prima volta Confartigianato Imprese Belluno Sbarca Ad Arredamont Con un villaggio Tutto suo Una vetrina Per le imprese Del territorio Ma anche per le realtà Proveniti da tutto il Veneto Solitamente Spiega la presidente Claudia Scarzanella A questi eventi Partecipano Aziende Che hanno capacità Organizzative Tali per potervi accedere Per questo Confartigianato Ha deciso di organizzare L'intero pacchetto Permettendo anche Alle imprese più piccole Di mostrare Il proprio lavoro È un'occasione Veramente bella Per fare squadra Per lavorare insieme Per aiutarsi Condividere anche Il lavoro che si fa Conoscersi E quindi è sicuramente Un'ottima occasione Per far crescere Le imprese In mostra In mostra tutto Sistema a casa Dall'arredo E serramenti Dalle coperture Alla falegnameria E impiantistica Una Confartigianato Come sistema Di imprese Che vanno a coprire Tutti i settori Al centro del lavoro Di Confartigianato Il concetto Di intelligenza artigiana In un'era Di intelligenza artificiale L'artigiano Ha bisogno Dell'intelligenza artificiale Ma la sua creatività Non è sostituibile Quindi Manteniamo Quella intelligenza artigiana E lavoriamo Su quella Per il futuro Sarà una bohème Di altissimo livello Quella che andrà in scena Mercoledì 6 novembre Al teatro comunale Dino Buzzati Di Belluno E presentata oggi In municipio Tra cantanti Orchestra Personale addetto Alle scenografie E altro Oltre 100 Le persone impiegate In questa rappresentazione Il cast Vedrà sul palcoscenico Artisti provenienti Oltre che dall'Italia Da Spagna Corea E Bulgaria Con Mimì Che sarà interpretata Da Veronica Tello Ci sarà anche un ospite a sorpresa Di fama mondiale Di cui non viene svelato il nome Che parteciperà però In uno dei ruoli minori Dell'opera Capolavoro di Giacomo Puccini Di cui ricorre il centenario Dalla morte Da parte mia è tutto Mi fermo qui Vi ringrazio per essere stati con noi Tra poco le previsioni del tempo A voi tutti Una buona serata Arrivederci Ne Ci sarà pagata